Il mio percorso è iniziato l'11 luglio quando Sara ci ha permesso di arrivare a Pollica nel Cilento per partecipare al progetto di Trame Mediterranea, che è un progetto che praticamente si occupa di scoprire, imparare, divulgare tutto ciò che riguarda la dieta mediterranea. È un progetto di Future Food Institute e grazie a questo e al Padaya Campus noi siamo riusciti a incontrare produttori di ogni tipo, quindi produttori di mozzarella, produttori di olio, produttori di miele, per appunto vivere in prima persona ciò che è il Cilento e la dieta mediterranea. Io faccio la scuola alberghiera e il mio scopo quando uscirò dalla scuola è quello di fare la dietologa. Quando la preside ci ha presentato il progetto che Sara aveva esposto appunto, che sarebbe quello di Trame Mediterranea, io ho pensato subito al fatto di comunque cosa volevo fare nel mio futuro, quindi leggendo un po' comunque quello che avremmo fatto qui ho capito che probabilmente sarebbe stata la strada giusta per iniziare il mio percorso quanto prima.